E poi, siccome il Movimento 5 Stelle ha questa mania di dire che porta i cittadini nelle istituzioni, allora faccio una domanda un po' sciocchina da cittadino che entra nelle istituzioni senza esperienza. Sono usciti, credo, sei consiglieri, giusto? E' il 50% della maggioranza, circa. Sono usciti zero consiglieri della minoranza. Da cittadino ignorante e che non pone alcuna malizia nella domanda che sto ponendo, qualora la domanda sia, naturalmente, sia possibile fare questa domanda, è possibile sapere il motivo per cui sei consiglieri sono usciti e zero della minoranza? Non è una decisione politica, giusto? È una decisione tecnica? Vorrei capirlo, se naturalmente è una domanda che è possibile, o se invece deve essere censurata anche questa. rispondo io, a parte che lo hanno anche detto, ma forse è anche noto, che quando ci sono legami e vincoli di parentela fino a un determinato grado, non si può essere presenti e votare le delibere in oggetto, in discussione in questo momento. e quindi sei consiglieri avevano questi legami. Cugini, parenti, fino al quarto grado. Attimo lavoro.